Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video informativo Io sono Tommaso e oggi vi spiegherò il perché noi abbiamo deciso di variare i nostri orizzonti dei documentari Beh, perché semplicemente hai detto papale papale, vogliamo fatturare i tuoi, dai Quello che vogliono fare tutti è fatturare e lo vogliamo fare anche noi, diciamoci la verità Però, a parte quello, vogliamo aprire i nostri orizzonti per raggiungere un pubblico maggiore E per portare più pubblicità veramente al nostro canale Ora vi lascio ad Andrea Ciao a tutti, oggi volevo raccontarvi cosa modificheremo nel canale Modificheremo il logo, il motto e modificheremo i video Perché aggiungeremo video sulla storia, sull'arte e sulla tecnologia che farò io Adesso vi lascio al mio collega Edoardo, ci vediamo alla prossima Ciao, ormai a me che mi conoscete, sono Edoardo Girelli e oggi sono qua per dirvi che documentari facciamo nel 2023 Se la signora sta un po' in silenzio magari E niente, nel 2023 facciamo Faremo documentari sul PC, perciò il primo documentario sulla tecnologia che farà Andrea Poi faremo un documentario sul Mar Rosso, al Mar Rosso Abbiamo ancora le serie su cosa Un documentario sulla fauna delle Alpi Uno sui animali d'acqua dolce Faremo anche un documentario storico e uno sull'arte Bene, ciao Buono Vediamo se è buono Grazie a tutti